Voglio subito introdurre l'ospite, il primo ospite di questa mattina, lo vedete inquadrato, è Don Davide Abbascià, incaricato della Regione Puglia per la pastorale giovanile. Buongiorno e bentrovato Don Davide, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. E con Don Davide parleremo di un argomento importante, perché domenica, come da tradizione, la quarta domenica di Pasqua, si celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Quest'anno giunge alla sessantesima edizione, il motto è Vocazione, Grazie e Missione, che poi è anche il titolo del messaggio che è stato presentato pochi giorni fa in Vaticano, scritto da Papa Francesco, come introducevo appunto prima. È un'iniziativa importante che cade ovviamente a circa 60 anni dalla chiusura poi dell'apertura del concilio Vaticano II e Papa Francesco nel messaggio che ha presentato parla Don Davide di un duplice movimento che caratterizza la vocazione, che è la Grazia, come suggerisce appunto il titolo del messaggio, che è un movimento dall'alto, potremmo definirlo così, e la Missione che è un movimento che opera dal basso, quindi che coinvolge poi tutti quanti noi in prima persona. Allora la prima domanda per introdurre questo argomento, questo messaggio è come possiamo riscoprire queste due realtà, la Grazia e la Missione? Ma penso che innanzitutto la Grazia, come già dicevi tu, ricorda Papa Francesco nel suo messaggio, la Grazia riguarda questo movimento dall'alto e la Missione questo movimento dal basso. Penso che la riscoperta della Grazia, della Missione, possa venire proprio dal dono, che è Grazia, e dalla responsabilità che è Missione, riscoprire questa circolarità tra la Grazia e la Missione, non come movimenti successivi, ma come una circolarità dello stesso movimento che è la vocazione stessa. Per cui la riscoperta credo possa essere tenuta insieme da questi due movimenti. Se togliamo la Missione dalla Grazia, rischieremmo di essere delle persone de-responsabilizzate. Se togliamo invece la Grazia dalla Missione, il rischio è che facciamo dipendere tutto dalle nostre forze. Già Giovanni Paolo II parlava della Grazia della Missione in termini di dono e di responsabilità in un suo famoso libro, proprio chiamato così. Sono realtà importanti che Papa Francesco sottolinea. In questo messaggio abbiamo anche visto prima la pagina che la Conferenza Episcopale Italiana, nello specifico il servizio di pastorale giovanile e vocazionale, ha pubblicato con appunto il messaggio in integrale. Io vorrei citare un breve stralcio di questo messaggio. La chiamata di Dio include l'invio, scrive Papa Francesco. Non c'è vocazione senza missione. E farsi prossimo, continua il Papa, come il buon samaritano, permette di capire il nocciolo della vocazione cristiana. Imitare Gesù Cristo che è venuto per servire e non per essere serviti. E allora, don Davide, come si può essere inviati, come si può essere missionari nella quotidianità della propria vita? Papa Francesco fa riferimento nel suo messaggio alla dimensione filiale, citando la lettera di Paolo alla comunità cristiana di Efeso. Proprio la dimensione filiale tiene insieme la grazia e la missione, come dicevamo prima. Ma riscoprire la quotidianità come un luogo abitato da Dio e dagli uomini, questo ci fa riscoprire anche la nostra identità missionaria. Cioè, niente di quello che noi già viviamo non è abitato da Dio. Cioè, tutto quello che noi esperiamo nella vita quotidiana, tutti gli incontri che facciamo, dall'esperienza lavorativa agli incontri nelle nostre relazioni, nel nostro servizio pastorale, tutto è abitato da Dio. Niente è lasciato al caso. Per cui riscoprire la nostra missione, la nostra quotidianità, è innanzitutto riscoprire la nostra quotidianità come luogo teologico, come luogo abitato. È una caratteristica, potremmo dire così, molto importante di questo essere chiamati, che come abbiamo visto anche dal titolo dell'articolo su Vatican News, è una missione, comunque un essere inviati che poi coinvolge in qualche maniera noi in prima persona e verso gli ultimi. E io a questo punto, visto che la parola ultimi è in qualche maniera piombata all'interno della nostra conversazione, non posso non introdurre la figura straordinaria di Don Tonino Bello. La scorsa settimana abbiamo ricordato 30 anni dalla morte di questo autentico profeta del nostro tempo. Abbiamo qui anche su Padre Pio TV avuto la possibilità di ascoltare la testimonianza di coloro i quali lo hanno vissuto in formato famiglia, ecco i nipoti e comunque coloro che hanno visto Don Tonino, la santità di Don Tonino fiorire all'interno della famiglia. Ieri preparando la nostra chiacchierata, la nostra intervista a Don Davide, sono capitato in questa poesia che personalmente non conoscevo di Don Tonino. Don Tonino in questa poesia diceva che vocazione è la parola che dovremmo amare di più perché è l'indice di gradimento presso Dio della nostra, della tua, si rivolge Don Tonino a un ipotetico tu, della tua fragile vita. Quello che voglio chiederti allora è come si fa a misurare questo amore, come anche la Chiesa ma anche le altre agenzie sociali, altre realtà, possono aiutare a comprendere la strada a cui ciascuno di noi è chiamato. Grazie di questo ricordo di questa poesia di Don Tonino che fa richeggiare gli anni della mia adolescenza quando per la prima volta ho letto questo testo e oggi da adulto, da presbitero, ecco penso che l'indice di gradimento più bello di Dio nei nostri confronti sia proprio la libertà. Siamo da poco reduci dalla solennità della Santa Pasqua, stiamo vivendo il tempo pasquale. Se è vero che la Pasqua non è un punto di arrivo, ma è passaggio, come dice la parola stessa, dalla schiavitù alla libertà e dalla morte alla vita nuova, se la schiavitù è la morte, la libertà è la vita nuova. Per cui l'indice di gradimento più bello che Dio ha nei nostri confronti è la libertà, è la vita nuova. Per cui che cosa è vocazione se non il dono più bello che Dio ci possa fare per essere persone autenticamente libere, di essere se stesse e di lasciarsi amare per quello che sono e di amare per quello che sono. È questo che ci rende sempre più a immagine e somiglianza, o meglio ci fa sempre più somigliare a Dio, come ricorda anche Papa Francesco nel messaggio di questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. L'immagine di Dio aumenta sempre di più in noi man mano che ci riscopriamo persone autenticamente libere e amanti. Don Davide, allora ti chiedo di restare con noi perché voglio far ascoltare a te e ai nostri amici un breve stralcio di un passaggio di un'udienza generale, di una catechesi, di un'udienza generale di Papa Francesco risalente allo scorso 15 marzo in cui il Papa parla proprio di vocazione e di come la vocazione deve essere vissuta all'interno della Chiesa. Vediamo insieme. L'esperienza dei dodici apostoli e la testimonianza di Paolo interpellano anche noi oggi. Ci invitano a verificare i nostri atteggiamenti e verificare le nostre scelte, le nostre decisioni sulla base di questi punti fermi. Tutto dipende da una chiamata gratuita di Dio. Dio ci sceglie anche per servizi che a volte sembrano sovrastare le nostre capacità o non corrispondere alle nostre aspettative. Alla chiamata ricevuta come dono gratuito bisogna rispondere gratuitamente. Dice il Concilio, la vocazione cristiana è per sua natura anche vocazione all'apostolato. Si tratta di una chiamata che è comune, come comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune è la grazia di adozione filiale, comune è la vocazione e la perfezione. Non c'è una sola salvezza, una sola speranza e una sola carità senza condivisione. È una chiamata che riguarda sia coloro che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine sia alle persone consacrate, sia a ciascun fedele, laico, uomo o dona. È una chiamata a tutti. Tu, il tesoro che hai ricevuto con la tua vocazione cristiana, sei costretto a darlo. È la dinamicità della vocazione e la dinamicità della vita, no? È una chiamata che abilita a svolgere in modo attivo e creativo il proprio compito apostolico in seno a una Chiesa in cui c'è diversità di ministero, ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma anche i laici, tutti voi, eh? La maggioranza di voi siete laici. Anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, profettico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il popolo di Dio, hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo. Allora, Don Davide, io ho individuato tre parole chiave, non so se le condividi, apostolato, condivisione e universalità in questo breve passaggio della Catechesi del Papa del 15 marzo scorso. Ma c'è un verbo, costringere, ecco Papa Francesco dice una volta che tu hai ricevuto una vocazione sei costretto in qualche maniera poi a condividere con gli altri questa chiamata, questa vocazione universale. Ti chiederei un breve commento su questo passaggio. Quando ho ascoltato questo passaggio di Papa Francesco e con quel verbo che ha catturato anche me, quel costringere, che sembrerebbe quasi, ecco, un dovere, un imperativo, in realtà riecheggia ciò che già San Paolo scriveva alla comunità cristiana di Corinto dicendo lo spirito di Cristo ci, noi leggiamo nella traduzione italiana, ci spinge. In realtà se grattiamo sotto la traduzione italiana troviamo un termine greco che proprio ci costringe, ci costringe, ci obbliga in qualche modo. perché se è vero che la vocazione è dono, ma è anche missione, e se questo dono, di questo dono noi non possiamo fare a meno perché ci rende figli liberi e quella libertà non riusciamo a tenerla. Per questo ci costringe, non perché Dio ci costringa, ma perché questo dono grande tu non riesci a tenerlo solo per te, ma non puoi fare altro che condividerlo. è un altro verbo che Papa Francesco utilizzava. Per questo il nostro apostolato non è fondato sul fare qualcosa, perché dobbiamo farlo, perché dobbiamo organizzare, ma perché il dono è così grande che non riusciamo a tenerlo per noi. E' questo che ci costringe ad annunciare il Vangelo, a vivere la carità, la fede e la speranza e in generale vivere il nostro apostolato. Allora, don Davide, visto che la regia mi pressa perché siamo in pubblicità, siamo quasi in pubblicità e dobbiamo salutarci, io ti chiederei una battuta sulla GMG, perché Papa Francesco cita questo evento all'interno del messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Ti chiederei la Puglia, per essere ristretti un po' diciamo all'ambito di tua competenza, come si sta preparando? Ti chiederei di essere rapidissimo. Attualmente gli iscritti sono più di un migliaio in Puglia e tendono ad aumentare, sappiamo che i ragazzi non sono proprio celleri in questo. E poi molte diocesi si stanno preparando sia con momenti di preghiera ma anche con momenti di carità interessanti. C'è ad esempio la diocesi di Andrea che andrà a fare un gemellaggio all'Urd, ad esempio, a vivere un'esperienza di carità all'Urd in preparazione alla GMG. Quindi è un movimento che continua, che magari sembra fermo in alcuni istanti ma comunque sta in qualche maniera procedendo verso questo evento importantissimo. Noi comunque ne torneremo a parlare magari un po' più a ridosso dell'evento quando la situazione sarà tra virgolette più chiara. Avremo comunque dei dati definitivi su cui poter anche ragionare. Io, Don Davide, ti ringrazio per essere stato con noi, per averci aiutato nella comprensione di questo messaggio, di questa giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che, come abbiamo detto all'inizio, si celebrerà domenica prossima. Grazie. Grazie Don Davide, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata e buona domenica. Grazie ancora a Don Davide Abbasciano. Noi, come promesso, ora torniamo a parlare del viaggio del Papa in Ungheria. Papa Francesco che è decollato circa un'ora fa da Fiumicino ed è atteso tra circa tre quarti d'ora a Budapest. Però prima ci fermiamo per la pubblicità e poi approfondiamo insieme questo argomento. Grazie a tutti.